Cosa chiede l'Ankma alla politica rispetto anche a quello che sta avvenendo in Europa? Beh, direi, per usare un termine calcistico, di non fare degli autogol, perché mettere alla bicicletta pedalata assistita, targa, assicurazione e casco, vorrebbe dire uccidere il mercato. Uccidere un mercato nel mondo della bicicletta dove l'industria italiana primese in Europa con quella portoghese. A mio avviso questo è semplicemente un autogol. Ma è una cosa anche difficile rispetto anche al mercato europeo, metterla soltanto in Italia? Anche perché non è così in Europa. Mi sembra un'uscita fuori dalle righe completamente avulsa dalla realtà, scollegata dalla realtà. Che cosa propone invece per, diceva, di incentivare l'utilizzo della bicicletta dopo l'incentivo all'acquisto? Ridurre l'IVA in tutto il comparto sarebbe un incentivo all'utilizzo come già proposto dal Parlamento europeo, come sta già avvenendo in Portogallo, come avverrà molto probabilmente in Spagna e in altre nazioni. Direi di guardare quello che sta succedendo in Europa e di cercare di fare le cose coordinatamente. Chiarissimo, grazie.